Eccoci qua cari telespettatori, ben ritrovati con noi, ben ritrovato anche il nostro ospite segretario dell'app di Padova, grazie di essere con noi segato, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a voi. Allora insieme avremo diversi argomenti, tanti in realtà da approfondire e da trattare insieme. Da un lato la prossima prima giornata della ristorazione che vuol dire fare delle considerazioni a tutto campo in un ambito che è veramente importantissimo e strategico non solo per chi lavora in questo settore e chi vorrebbe, potrebbe e dovrebbe andare a lavorare in questo settore. E quindi un indotto economico importante, ma anche perché fa parte del complesso e importantissimo mondo del turismo. Turismo esperienziale, turismo legato al settore alimentare e anche a una sorta di benessere, perché bisogna intenderlo un po' in senso lato. E quindi è stata riconosciuta e premiata dal Presidente della Repubblica, una giornata che deve essere una giornata di riflessioni, considerazioni, ma deve guardare anche avanti. E si celebra tra l'altro l'ultimo venerdì del mese di aprile, da qua agli anni a venire. Questa sarà la prima edizione e per cui cercheremo di spiegare insieme a livello nazionale che Valenza viene ad avere, come si coniuga a livello territoriale, perché ci sono poi delle declinazioni particolari. E poi visto il periodo dei punti, dei lunghi punti che ci sono, che ben vengano perché aiutano moltissimo il turismo, delle festività passate, pasquali, l'anno che si è chiuso il report della ristorazione e quelle che verranno, perché ormai si dovrebbe aprire anche la stagione estiva, le prospettive che ci sono, le criticità però anche del settore, che sono legate a tanti fattori purtroppo, che prescindono anche dalla vostra volontà e da quella dei turisti. Allora segretario, vediamo un po' di fare un quadro della situazione. Come è andato in passato, a seguito anche di questo report che faceva le valutazioni del 2022, inizio 2023, voi lo avete in mano, la situazione? Intanto parliamo del 2022, è stato un anno sicuramente di passaggio, per quanto riguarda il settore dei pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, attività similari, venivamo da due anni, 2020 e 2021, difficili per usare un eufemismo, tantissime attività hanno chiuso e il 2022 veramente per chi è riuscito a scavallare, quindi arrivare alla primavera del 2022 è stato veramente un anno di rimettersi in gioco, di ripartire e intercettare una domanda che comunque c'è stata, i consumatori hanno dimostrato di amare la frequentazione dei bar, dei ristoranti, delle pizzerie e li hanno frequentati, hanno dato fiducia a queste imprese in maniera massiva e in più c'è stato anche un grosso ritorno del turismo, non solo straniero, ma anche gli italiani hanno riscoperto la voglia di visitare il nostro paese, quindi sicuramente il 2022 e il 2023 ha proseguito in questa direttrice, in questo solco, è stato un anno veramente positivo di ripartenza, con naturalmente molte luci ma anche qualche ombra, una su tutte la difficoltà di reperire personale. Prima di arrivare a questa che è un nodo bello grosso, che va anche spiegato bene, perché chi non è detto ai lavori non riesce a comprenderlo, perché è un po' trasversale a tantissimi settori, è veramente una cosa che riguarda tanti ambiti. Andiamo ad un altro fattore, c'è stata un'inflazione in atto, bella e importante, e un aumento tra l'altro di materie prime, non solo di genere alimentari, tra l'altro fuori onda, tanto per citarne una, il semplice latte, che riguarda la ristorazione e anche i pubblici esercizi, bar e quant'altro, ma anche le energie elettriche, il riscaldamento. Questo è impattato su tutti, dai consumatori agli esercenti. È stata una botta. Sì, sicuramente non è una novità quello che stiamo dicendo, l'abbiamo visto tutti a casa nostra con le bollette dell'energia elettrica, del gas, che sono schizzate le stelle, soprattutto nella seconda metà del 2022, poi i primi mesi di questo 2023. Così come quando siamo andati a fare la spesa, abbiamo visto che mettere gli stessi prodotti nel carrello che mettevamo l'anno prima, quest'anno ha comportato una spesa di almeno il 20-30, ma con punte anche del 50% e oltre in più. Energia elettrica, gas e prodotti alimentari, che sono la base del lavoro dei pubblici esercizi, perché quando andiamo al ristorante e mangiamo, che ne so, una pizza o una pasta, o andiamo al bar e prendiamo un cappuccino, ecco quei prodotti sono fatti sicuramente di mano d'opera, ma anche di materie prime e di prodotti energetici, quindi gas per cuocere, l'energia elettrica ad esempio per fare il caffè. Quindi i ristoratori hanno subito, da un lato, gli aumenti nei costi energetici di forniture, dall'altro lato non hanno potuto aumentare, se non marginalmente, i listini che hanno proposto al pubblico, perché naturalmente si rendono conto gli esercenti che le persone che hanno di fronte, quindi i clienti, sono nelle loro identiche situazioni e quindi in grosse difficoltà economiche. Sono tra l'incudine e il martello, dover aumentare i listini per poter avere un minimo di redditività e poter mantenere aperta l'azienda, ma dall'altro lato doverli aumentare, poterli aumentare il meno possibile. L'inflazione media del 2022 è stata di circa l'11%, l'inflazione nel settore dei pubblici esercizi è stata dell'8%, quindi più bassa rispetto all'inflazione, al paniere medio diciamo. Questo però è stato un dato, vedevo le valutazioni del report a livello europeo tendenziale, in genere questo è stato anche in alcuni paesi meno, la Spagna un po' meno, pur avendo un'inflazione molto alta, altri paesi in via di sviluppo nel settore dell'Europa hanno aumentato molto di più, addirittura due cifre, l'inflazione per quel che riguarda la sezione pubblici esercizi. Sì, bisogna anche tenere conto degli interventi che i vari stati europei hanno fatto per sostenere le imprese. In Italia i pubblici esercizi hanno potuto beneficiare sostanzialmente di un credito di imposta sui consumi energetici pari in media al 25-30% del costo materia e energia. Tradotto in euro vuol dire che se l'esercente arrivava a una bolletta mediamente di 1.000 euro per l'energia elettrica e nel 2022, magari a settembre, ottobre 2022, quella stessa bolletta è balzata a 2.000 euro, sulla differenza l'esercente poteva recuperare il 25%, quindi parliamo di 250-300 euro a fronte di un raddoppio del costo delle forniture energetiche e dopo che la fattura era stata pagata perché naturalmente il credito di imposta era utilizzabile nel momento in cui la fattura venisse pagata. Altri stati europei che magari avevano altre disponibilità a bilancio hanno aiutato le imprese in maniera molto più importante e quindi anche gli imprenditori hanno potuto aumentare un po' meno i listini prezzi. Detto che, apro e chiudo una parentesi, a livello di listini l'Italia a livello europeo o almeno dei paesi più sviluppati a livello europeo si è sempre collocata con listini molto freddi, vale a dire con prezzi molto bassi. Basta pensare quanto costa un caffè qua in Italia, 1,20 euro, 1,30 euro dopo gli ultimi aumenti e quanto costa lo stesso caffè espresso in Germania e abbiamo subito cognizione di quali siano i margini per un barista italiano rispetto a un barista tedesco. Sì, però in Germania ti tocca sederti, devi comunque diventare un servizio al tavolo limitato, chi riesce a star seduto sta seduto, altrimenti mentre da noi puoi stare anche in piedi in 50 e prendersi il caffè è una modalità, una concezione diversa di consumo del bene. Parliamo sia di bar ma anche di ristorazione, di ristoranti. La situazione invece di bar è un po' più risicata, anche se sono molti a gestione da parte del titolare. Sì, i bar sono sicuramente molto più in difficoltà in questo periodo rispetto ai ristoranti, anche se vediamo magari i bar pieni, i tavolini magari in piazza o lungo le vie occupati, ecco consideriamo che lo scontrino medio è di pochi euro, 4, 5, 6 euro, clienti che rimangono lì seduti magari una o due ore e occupano il tavolino appunto a fronte di una consumazione magari di pochi euro. Quindi non sempre vedere un locale pieno vuol dire vedere un'attività redditiva, purtroppo ne stanno dando conferma le tantissime chiusure che in questo primo inizio del 2023 si stanno registrando nel settore di bar. Quindi i bar chiudono, hanno chiuso molti? Sì, molti bar stanno chiudendo, perché stanno chiudendo adesso? Perché in questi mesi stanno vedendo, in queste settimane, stanno vedendo i bilanci definitivi del 2022 naturalmente, quindi si rendono conto i gestori di effettivamente quanto l'impresa sia in perdita. A questo si somma, ma non è solo per i bar, vale per tutte le attività e vale anche per i privati, l'aumento dei tassi di interesse sui finanziamenti. Molte imprese, come anche ovviamente molti privati, hanno dei finanziamenti in corso e su una rata magari di 2 o 3 mila euro al mese per investimenti a fronte di ristrutturazioni o acquisti di attrezzature o di arredi, sui 2 o 3 mila euro di rata, l'inanziamento dei tassi di interesse magari incide per 2, 300, 400 o anche oltre euro in più al mese da sborsare e anche questo si mette nel lato della bilancia col segno meno, quindi col segno negativo. Diversa, dicevamo, la situazione dei ristoranti perché lì comunque si riesce ad affrontare, sicuramente intanto c'è una ripresa dei consumi da parte della clientela che insomma ha dimostrato di voler tornare a frequentare i ristoranti, soprattutto durante le occasioni tradizionali, abbiamo visto a Natale, a Capodanno, a Pasqua, a San Valentino i ristoranti veramente presi da salto che hanno dovuto rifiutare anche le prenotazioni ma anche diciamo nei periodi che solitamente erano un po' più di bassa stagione, chiamiamoli così, come i mesi di gennaio e febbraio. Qualche ristorante ha deciso ad esempio di andare a incidere sui costi aziendali chiudendo nei primi giorni della settimana, parliamo soprattutto di ristoranti e trattorie della zona Colli Ugani e delle zone un po' più rurali e aprendo magari al mercoledì sera o al giovedì sera. Quindi cambiamento anche delle abitudini di consumo che incide sulla gestione del ristorante e penso anche di strutture di ricettività in generale perché anche lì gli alberghi tutto magari pieno fine settimana, poi durante la settimana c'è la desertificazione. Esattamente, c'è proprio questo, un cambiamento nelle modalità di usufruire di questi servizi, quindi c'è la corsa e il pienone magari nei fini settimana durante le festività, quelle tradizionali e un po' diciamo di scarsa domanda nei giorni infrasettimanali e nei periodi magari un po' più di bassa stagione anche se appunto qualche ristoratore riesce a intercettare anche questa domanda. Sarebbe da capire se ci siano degli spazi, delle opportunità e queste dovranno anche le associazioni essere in grado di accompagnare le imprese per cercare di destagionalizzare, chiamiamolo così, la domanda al ristorante, quindi magari con delle promozioni, con degli sconti, con degli eventi particolari, far venire più gente al ristorante magari a lunedì, martedì, mercoledì e quella gente che magari, i stessi clienti che magari di solito vanno il venerdì sera o sabato sera farli venire al ristorante al martedì o al mercoledì. Quindi cercare di cambiare un po' quelle che sono con degli allettamenti ovviamente, perché altrimenti le persone magari durante la settimana sono più disposte al sacrificio anche perché comunque c'è il lavoro, ci sono vari impegni, però a fine settimana vogliono, finché riescono, io dico sempre finché riescono, perché sembra che adesso questa tendenza non risponda alle entrate economiche di tante famiglie, però magari hanno risparmiato prima, quindi finché riescono vogliono, vogliono divertirsi. Sì, quello sicuramente, stiamo registrando questa cosa, quindi il consumo diciamo di necessità, la classica pausa pranzo, magari anziché farla al bar o in pizzeria o in trattoria, la si fa in ufficio, portandosi via qualcosa a casa da mangiare, quello che risparmio durante la settimana magari vado a spenderlo nel fine settimana. Ci sono poi altri due fenomeni, il primo è il servizio a domicilio, quindi il delivery, che comunque in determinate zone della città di Padua, della provincia, sta prendendo sempre più piede, quindi non vado al ristorante al martedì sera, però ad esempio mi ordino le stesse pietanze a casa, mangiando magari in pigiama e nell'orario che preferisco, senza tante formalità, e la seconda è che comunque tanti ristoranti sono loro malgrado costretti alla chiusura, ad aumentare i giorni di chiusura infrasettimanale per poter dare i turni di riposo giusti ovviamente al proprio personale dipendente, perché appunto con la scarsità di manodopera che si registra non si riesce più a garantire il servizio tutti i giorni a settimana e quindi il ristoratore preferisce concentrare il lavoro nel fine settimana. Anche se c'è qualche ristoratore che molto candidamente mi ha affermato di aver preferito invece chiudere tutte le sere, rimanere aperto solo a pranzo, qualche altro ristoratore di chiudere i giorni festivi quindi tutte le domeniche, il giorno di Pasqua, di Natale, di Capodanno proprio per andare incontro anche alle richieste dei propri dipendenti. Ecco, c'è la pubblicità, prima però volevo chiedere, no anzi facciamo così siccome richiede un po' delle riflessioni si allaccia anche tra l'altro a questa giornata nazionale della ristorazione, la domanda gliela faccio anche dopo torniamo insieme tra pochi secondi e riapprofondiamo questi temi anche se volete partecipare voi potete mandare i vostri messaggi. Grazie.